Qualche giorno fa, insomma, a Bonaccini, ma in più di un'intervista, ha fatto presente che sostanzialmente le regioni ha ricordato in qualche modo che un buon modo di gestire i rifiuti e quindi di lavorare anche sull'ambiente è fare i, come dire, i compiti a casa propria, diciamo così, essere autonomi, autosufficienti a livello di gestione dei rifiuti. La Toscana oggi non lo è. L'area fiorentina, essendo sostanzialmente anche a livello di abitanti un terzo praticamente della Toscana, nella logica di Bonaccini dovrebbe gestire i propri rifiuti. Allora come facciamo? Beh, diciamo che Bonaccini non è il verbo, naturalmente, è un amorevole dirigente. Però la regione toscana oggi è un presidente di regione importante. Io credo che il fatto che la regione toscana non abbia la possibilità di risolvere all'interno dei propri confini il tema del ciclo dei rifiuti sia un problema, rappresenta un problema. Credo che da questo punto di vista la giunta regionale, in particolar modo l'assessore Monni, stia lavorando per elaborare un piano dei rifiuti che provi a sposare il tema dell'economia circolare e quindi definisca una programmazione, una progettazione per i prossimi anni, è chiaro che noi dobbiamo partire da lì. Se noi ritorniamo un'altra volta da capo e allora ripartiamo a Case Passerini e doveva essere Selvapiana e cosa doveva essere non è stato, ci sono mille motivi per cui non è stato e per cui non è stato Case Passerini. Il punto che giustamente diceva lei, che richiamava anche il presidente della regione mia Romagna, cioè di come una regione importante come la Toscana riesce a risolvere in proprio il completamento del ciclo dei rifiuti, debba essere posto, si porrà e credo con la proposta che farà l'assessore Monni, una soluzione, una prospettiva verrà data da questo punto di vista.